Il Consorzio Promot3 nasce 13 anni fa per volontà di due imprenditori di entrare a far parte del contratto food perché le grandi marchi davano una contribuzione di un certo tipo alle aziende completamente drag, golosissime dei contratti invece del mondo food, hanno deciso di corteggiare le centrali food e per far sì c'era bisogno di un aggregato di fatturato di un certo tipo, quindi si sono messi insieme e sono entrati 13 anni fa in intermedia, credo che si chiamava all'epoca, non c'erano ancora in Italia quindi non ne so granché e da lì poi nasce il Consorzio, il Consorzio è specializzato in due canali, nasce prima sul mondo della profumeria e poi dopo sviluppa anche i drag store, quindi oggi si propone leader in due canali, è il numero due in termini di quadri di mercato sul mondo SS Drag, è la sesta insegna invece delle profumeria in Italia. Oggi siamo dentro alla centrale Crai e dentro anche tramite Crai a Smoshan come struttura. Stiamo dando un valore anche a Crai perché nel momento in cui la DO subisce una contrattazione delle vendite, noi al contrario sono più di dieci anni che cresciamo quindi Crai oggi è l'unica centrale in Italia che valorizza due canali, due anime, abbiamo raggiunto quasi il 49% del fatturato, non solo Promotrina ma il mondo Crai, il mondo drag all'interno di Crai fa oggi il 49% del fatturato. Noi siamo specializzati, quindi per noi l'innovazione è fondamentale perché lavoriamo su un elemento dove rispetto alla spesa dove mi preparo più o meno per comprare un rossetto l'impulso è grande e poi l'effetto innovativo è fortissimo quindi per noi l'innovazione è fondamentale. Il problema è che avendo le grandi marchi per noi a parte due o un'azienda sono Protein & Gamble non fa solo questo, Enkel non fa solo questo, Onilevano non fa solo questo L'Oreal. Forse è l'Oreal è l'unica struttura che fa solo cura a persona, quindi tendenzialmente noi non siamo il partner prioritario ora lo siamo perché siamo quelli con un tasso di sviluppo maggiore e si stanno accorgendo e quindi soffrendo il canale principale che è il food il tasso di innovazione è sempre più basso e quindi lo subiamo. Parliamo del volantino e di che ruolo gioca la promozione per voi? Il volantino per noi è fondamentale perché oggi abbiamo mischiato due elementi strategici insieme che è la prossimità e la specializzazione, poi vendiamo un'idea di convenienza che poi farei difficile a spiegare in modo compiuto ma diamo un'impressione di convenienza e quindi per noi è importantissimo che il prezzo medio a scaffale delle categorie sia basso o mediamente basso, noi facciamo rilevamento da S lunga, non solo dai nostri diretti competitor e il volantino per noi è il primo driver delle vendite. Abbiamo visto l'evoluzione della categoria all'interno dei supermercati però rimane sempre che comprare per una donna, comprare una crema è un momento, richiede una shopping experience che il supermercato non può esaurire. Negli ultimi anni noi abbiamo, come dire, visto questa rinascita della specializzazione che è andata secondo me in quattro direzioni fondamentalmente. C'è un tema di specializzazione merceologica, io sono specializzato in una categoria di prodotto che è un po' quello che è stato diventato, c'è un tema di specializzazione di canale cioè io non sono specialista in una categoria ma sono specialista in un canale Amazon ti vende di tutto ma è specializzato nel canale c'è un tema di specializzazione di shopping, di tipologie di cliente che noi abbiamo vissuto poco fino adesso però alcuni esercizi sul tema della segmentazione della clientele poi c'è una specializzazione di marca, ci sono molte aziende che stanno sviluppando un processo di vertical branding molto forte Un momento di confronto molto interessante perché il tema era sull'assottimento, lo scaffale e quindi un miglior modo per interagire con i consumatori è stato per i drugstore, che è il canale in cui opera Promo 3 la possibilità di confrontarsi con le grandi insegne della GDO ma anche con altre realtà di altri mercati Grazie a tutti! 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 Grazie.